Abbiamo realizzato questo progetto alla Isis di Bisuschio, dove i ragazzi hanno rappresentato le tematiche dei superpoteri delle donne, diciamo così in estrema sintesi, con tutta una serie di fumetti che hanno fatto loro. Sono un liceo scienze umane, quindi senza un'attitudine particolare la tecnica del fumetto, ma hanno rappresentato dei lavori veramente bellissimi, uno lo vedete alle mie spalle. I ragazzi sono stati entusiasti, abbiamo toccato con mano anche oggi con la presentazione che hanno effettuato qui a Villare Calcati, il loro sorriso, la loro capacità di esprimere quello che hanno rappresentato, ci ha dato un feedback positivo e sicuramente faremo tesoro di questa esperienza, di questa modalità nuova e innovativa di fare scuola che li ha coinvolti e che il prossimo anno potremo calare ancora nel curriculum verticale di educazione civica e portare anche ad altri, di altre classi. Il lavoro nelle classi è stato soprattutto quello di presentare le figure femminile iconiche del fumetto per andare poi a creare una vicinanza tra i loro poteri wonder e quello di ciascuna delle ragazze o dei ragazzi presenti nella scuola, proprio per valorizzare la loro forza creativa e la potenza di poter essere se stessi attraverso un racconto.